Io ero sempre l'ultimo fine classifica, ovviamente, perché la pesca subacqua è uno sport dove l'esperienza vale più della forma fisica. A me faceva impazzire, perché io ero una ragazzina, ho vent'anni, me ne andavo in piscina, ero una bestia fisicamente della serie che poteva stare anche otto ore in acqua e poi magari vedevi il signore di cinquant'anni che faceva la gare con la pancia che come usciva se scendeva una sigaretta, faceva il pescatore e io impazzivo. E sono anche dell'idea che il sottocosta è stato anche oggettivamente deturpato dal pescatore in apnea, perché non è che siamo tutti dei bravi pescatori in apnea, così come ci sono i rizzaioli, i bombolari. Io non ho mai visto una ragosta nel bassofondo, ma so che c'erano, per esempio, così come i crostacei, così come i ricci, così come delle cerni. Quindi dire che noi non abbiamo un'influenza tale nell'ambiente sottomarino secondo me non è totalmente corretto. Non impattiamo come altre categorie, sicuramente, però è pure vero che l'utilizzo improprio di questa disciplina può avere un'influenza nel settore. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacqua che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi, pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Buongiorno Federico Rice. Che bel cognome che c'hai. Vero? Sì, ma da cosa deriva sta cosa? Allora, diciamo che è un cognome che a Cagliari è mediamente diffuso, però frugando ovviamente da ragazzino come lo provano a fare a scuola. Ha origini pare liguri. Rice è con l'accento diverso sulla I, quindi Rice. È il capo della Tonnara. Sì. È stato il Rice una sorta di comandante, sempre attinente al mare tra l'altro, quindi è molto curiosa questa cosa. Quindi il capo della Tonnara è un capo di imbarcazione, se non lo ricordo bene. Comunque è una sorta di comandante. Sì, sì, sì. No, bello. A me mi è sempre rimasto molto impresso probabilmente per la connessione con esattamente quello di cui hai parlato. Allora, Fede, intanto benvenuto. Mi fa piacere averti. Perdonami se non ci siamo riusciti a organizzare prima, ma mica la vita da papà, come penso tu recentemente sappia, è un po' incasinata. Di dove sei, Fede? Io sono di Cagliari, quindi nato a Cagliari, vissuto a Cagliari e spero di morire a Cagliari perché sono profondamente innamorato della mia città, della Sardegna ovviamente. Però... Quanti anni hai? Io ho 34 anni, quasi 35. Non sono più un ragazzino, mettiamola così. Vabbè, sull'età l'abbiamo spesso detto, è come ce la viviamo noi, piuttosto che il numero in sé. E dimmi una cosa, io ti conosco tramite social, chiaramente su Instagram, ho visto il progetto di Isola che è sempre stato regolarmente presente, almeno da quando io ho joinato Instagram soprattutto. e come nasce quest'idea di fare Isola e come hai conosciuto poi Giacomo che so essere il tuo socio, tra virgolette, di lavoro in questo? Allora, con Giacco prima di tutto ci conosciamo da ormai tantissimi anni. Giacomo, come saprai, ha fatto anche l'intervista con lui, lui è di Iglesias, quindi del sud Sardegna e poi per motivi di lavoro si è spostato al nord Sardegna. Quindi io, Jack, lo conosco dai tempi in cui era ancora uno sbarbatello era proprio un ragazzetto aveva avuto una ventina d'anni aveva appena finito le scuole e stava a Iglesias e ci eravamo conosciuti per caso su un gommone di un amico di Gabbo che tra l'altro saluto e lui aveva sentito Giacomo aveva sentito me e avevo organizzato questa pescata in gommone a Carloforte e quindi me l'ho ritrovata in gommone con Giacomo e comunque Giacomo è una persona squisita siamo andati da subito super d'accordo poi essendo coetani e avendo questa amore per la pesca subacqua che comunque sia è difficile trovare secondo me una persona che ha così tanta voglia e così tanta passione come Giacomo anche come me quindi abbiamo questa affinità in comune ovviamente la pesca subacqua poi negli anni siamo diventati tra virgolette come fratelli e tutto è nato perché avevamo fatto un corso istruttori a Ischia un corso istruttori di pesca subacqua dove Giacomo ha proposto io stavo cercando una svolta nella mia vita era un periodo di transizione nella mia vita e mi ha detto dai andiamo a fare questo corso istruttori a Ischia avevamo fatto tutto il corso era periodo del covid quindi avevamo seguito a parte le lezioni col computer però ovviamente poi c'erano tutte le prove pratiche in mare e a Ischia io non so perché io ho queste lampi di non genio di stupidità probabilmente mi ero svegliato mi ricordo perfettamente mi ero svegliato a Ischia in questa camera poi dovevamo andare in mare ho guardato Giacomo oh Giacomo noi adesso torniamo a Cagliari e apriamo una società ma guarda che cazzo dici si si la nostra associazione sportiva mia e tua e niente facciamo i cazzi nostri deciso si deciso e lui ah ok mi dà sempre la retta Giacomo poi ci confrontiamo tantissimo perché andando così tanto d'accordo possiamo anche tranquillamente dirci no non va bene si va bene qualsiasi cosa ci confrontiamo quindi da là è andata l'idea appunto di aprire un'associazione sportiva nostra per poter fare le gare per poter fare diciamo formare io poi ripeto era una fase di transizione dove stavo cercando di cambiare la mia vita totalmente poi fortunatamente ci sono riuscito e quindi Isola mi è servita anche per muovere i primi passi verso quello che era il mio lavoro attuale il lavoro fondamentale mettiamola così che non è l'istruttore di pesca subacquea ma io praticamente ciò che mi dà da vivere nel periodo di estivo ho una società che non è Isola Fishing Club ma è Isola Escursioni perché ovviamente è una partita IVA a sé dove faccio appunto le escursioni in mare con il gommone porto i turisti in giro per i mari del Cagliaritano e niente penso che sia il lavoro più bello del mondo che purtroppo durasse solo quattro mesi perché forse per me si arriva qua tutti i giorni la vedete da un punto di vista totalmente differente ok allora facciamo facciamo un passo in dietro vedi a me come penso oramai si sia capito affascina più questo aspetto delle nostre cacchierate rispetto che a volte la pesca in Ramponea questa fase di transizione che tu hai vissuto da dove provenivi perché è arrivata a quella a quella fase allora io ho sempre lavorato nell'attività nel negozio di famiglia i miei genitori hanno due negozi a Cagliari dove vanno tra l'altro molto bene fortunatamente i miei genitori sono molto giovani molto lungimiranti grandi imprenditori ho sempre lavorato con loro è un negozio che vende cioccolati e anche non è notteca quindi comunque sia interessante tutt'altro però non è pesca quindi il mio quello che mi ha sempre frenato tra virgolette è il fatto che io come penso molte persone stavo in negozio con la testa guardavo l'orologio dai cazzo un'ora finisco e vado a pescare quindi avevo la testa sempre orientata sulla pesca sul mondo marino cercavo sempre di evadere ma tuttora lo faccio da qualsiasi cosa e niente quindi era da tempo che cercavo volevo un cambiamento perché comunque io poi un po' si stufa delle cose ho lavorato dieci anni in questo negozio bello sì ho fortunato grazie al negozio ovviamente non ho potuto sputtare dove ho mangiato mi sono comprato macchina gommone quindi io però avevo bisogno di trovare me stesso fondamentalmente di andare all'interno di te ti diceva che non erano belle le priorità esatto poi mia moglie che è pazza come un cavallo cioè lei è stata la classica persona che anzi l'unica persona che anziché dirmi no tieniti questo posto fisso un negozio che va bene che ti permette di vivere fare una vita agiata sicuramente ma molla tutto e fai il cazzo vai a pescare fai quello che vuoi devi essere felice non ti voglio a casa incazzato è stata per me l'incoraggiamento più grande e devo ringraziare il covid perché quei due mesi di pandemia chiusi in casa dove tutti erano chiusi in casa che facevano le pizze o cucinavano e io praticamente ho passato il tempo davanti a un computer a cercare burocraticamente come cosa fare come cambiare la mia vita il mio intento è sempre stato quello di cercare di lavorare in mare non come subacqueo assolutamente per me non vuole essere un lavoro non deve essere un lavoro ma fare qualcosa comunque attinente a quello che so fare quindi ho guardato le mie skill praticamente ho detto cosa sai fare se andare in gommone perché ho il gommone ho comprato prima il gommone che la macchina a 18 anni cosa sai fare se andare in gommone discretamente il mare ne hai visto sei andare sott'acqua dunque stai vai in acqua da quando sei bambino conosci perfettamente il mare davanti a casa tua penso un po' come tutti la parlantina non mi manca un minimo di inglese la conosca lavoriamo nel settore turistico portiamo i turisti a fare giusto giusto allora una cosa mi affascina intanto la tua moglie era già tua moglie in quel in quel periodo quando non era mia moglie c'eravamo stavamo insieme non da tantissimo da due anni circa mia moglie è un artista cioè lei fa un artista ha la stessa parola fa la cantante l'attrice quindi proprio ha una mentalità totalmente differente da una persona comune normale secondo me infatti la mia domanda era proprio mirata a questo normalmente questa propensione mi verrebbe di dire è un po' generalista però forse di vivere la vita così in maniera anche creativa sì sì viene da una mente creativa sicuramente assolutamente ok quindi ho seguito il suo consiglio e in questo momento penso di aver cambiato radicalmente la mia vita decisamente meglio cioè io poi sarò probabilmente non sarò mai ricco su questo devi mettere cioè devi beh è una questione di come dire di accettazione di capire le cose di accettare le priorità assolutamente non avrò mai il macchinone il defender che tanto vorrei avere non avrò mai visto quello nuovo relativamente nuovo i nuovi defender mi vado a che passa sbavo bellissimo ho visto uno ieri della scuola dei bambini con Winchester devi sapere apro una piccola parentesi è la cittadina più vivibile di Inghilterra è subordinata a questo ci sono le scuole migliori di Inghilterra e dove ci sono le scuole migliori di Inghilterra c'è il mercato immobiliare più fiorente di Inghilterra che è una cosa connessa cioè tu fai conto che quando vai a cercare casa online per comprarle il prezzo è determinato dalla qualità delle scuole penso un po' te e questo crea un welfare pazzesco in giro e l'altro giorno c'era un defender sport che sembra dovesse andare a fare la guerra aveva le scalette laterali i copertoni con i cerchioni nonne tipo il classico cerchioni in lega sembravano cerchioni di 50 anni fa bianchi completi un carro armato ci sono alcuni che sono fantastici 100 mila euro di macchine un carro armato però anche col mio Hyundai si cammina giusto non ci va ci può dire nel fango qua correndo correndo la macchina la macchina la macchina serve per spostarci da punto A punto B quindi sono delle tue idee vaffanculo a questo a questo tipo di cose allora interessantissimo domanda a me piace pure molto il mondo imprenditoriale come affronti la tua la tua stagionalità del lavoro in termini finanziari ed economici come pensi di o come stai sopperendo alla carenza di business che inevitabilmente ci può essere nel periodo invernale allora devi tra virgolette fare la classica formichina quindi devi lavorare come un pazzo in estate cioè che non hai giorno libero ma non mi pesa cioè perché fondamentalmente mi pagano per andare a fare aperitivo in gommone quindi io sfido chiunque no cazzo io vado con il sorriso mi sveglio alle 6 e mezza con il sorriso giusto con la borsa frigo di birrette di cose andiamo ok ok e che servizio che servizio offri cioè che cosa che prodotto offri allora il mio prodotto io sono partito con Isola Fishing Club come associazione sportiva offrendo un servizio di snorkeling quindi una sorta di tipo diving però non con le bombole ovviamente faccio lavorare tutte le mie qualità brevetti eccetera per portare la gente sott'acqua a vedere a vedere fondamentalmente le cose più pop cioè le stelle marine i rici i due ciscetti quanta che la maggior parte sono turisti che non hanno forse mai visto il mare quindi avere uno che li sprona e dice guarda guarda che bella la stella marina gli spiega due cose è sempre dato credo un servizio alto però ovviamente si scontra anche con la richiesta perché praticamente a Pula dove sto io di base dove sono tutti gli hotel non c'è una clientela molto giovane cioè diciamo che se io porto te che sei giovane a fare snorkeling impazzisci perché comunque ti faccio vedere le cose interessanti è bella però magari se vengono dei signori di 80 anni non è che puoi stare là a rompergli la scatola dai mettiti la maschera andiamo fuori snorkeling cioè a volte mi fa contento si mettono la maschera si mettono la a posto bello non funziona così devi anche devi un po' pesare chi è davanti in gommone cioè della serie se hai un pubblico giovane o sportivo intraprendente diventa fighissimo perché io mi diverto li porto a sott'acqua andiamo facciamo li faccio vedere grotte tutte le cose più belle che ci sono pubblico un po' più grande facciamo il girettino classico bagnetto e poi tirò fuori due birrette che tanto fanno che fanno convivialità quindi è sempre bello ok come gestisci questo modello di business è un sito internet sì ho un sito internet lavoro molto con le strutture alberghiere quindi mi appoggio alle strutture alberghiere della mia zona che ovviamente negli anni ormai lo faccio già da questa sarà la quarta stagione quindi la prima stagione è stata un po' difficile tra virgolette conquistare la fiducia degli albergatori fondamentalmente di chi mi mandava i clienti però hanno visto che sono un ragazzo serio che il mio servizio era alto i clienti tornavano in albergo ringraziavano la reception per averli indirizzati da me quindi negli anni ho avuto anche una sorta di feedback positivo anche da parte degli albergatori quindi tendono a mandarli ok poi ovviamente lavoro molto con con internet e internet ho visto che non è tanto il sito internet che è magari un po' da vetrina quello ci deve essere c'è ovviamente ma passano due immagini e due prezzi ok piuttosto con google che devi pagare ok se vai in vacanza cosa fai cioè dici vado in vacanza o te lo propone l'albergo oppure dici voglio vedere cosa c'è cerchi su google cerchi il primo cash sicuramente i risultati e il traffico organico è quello che paga di più però chiaramente la difficoltà è nell'acchiapparlo fondamentalmente poi diciamo che anche io sono stato molto indeciso se tenere un profilo basso tra virgolette oppure proprio fare l'imprenditore quindi comprare più gommoni perché soprattutto la richiesta c'è ad agosto soprattutto se avessi tre gommoni uscirei con tre gommoni contemporaneamente solo che Federico Rice è uno certo vorrebbe dire avere dipendenti avere altre persone che però non so se riescono a dare il mio servizio ma perché ripeto il mio servizio non è per essere spocchioso è creato da me della serie la mia formula di isole escursioni ha sempre un lato mare subacquea quindi non ti basta lo skipper devi avere anche uno che sappia cosa sarà sì ma guarda questo secondo me è uno dei downside di essere anche la faccia del proprio business perché oltre che inevitabilmente però qua alla base c'è la decisione di cosa noi vogliamo fare e di cosa noi vogliamo essere per l'azienda fondamentalmente secondo la mia esperienza perché chiaramente se tu approcciavi questo modello di business meramente da un punto di vista business finanziario tu questo ragionamento lo potevi fare a priori mi faccio la mia flotta o comincio a lavorare per creare la mia flotta e ti stacchi da questo però chiaramente la qualità del servizio non sarà mai la stessa che tu potrai andare a deliverare così come può essere per esempio nel caso del io lavoro in cucina se io aprirò il mio ristorante è chiaro che la mia mano non sarà mai la stessa di un altro chef con la stessa cura e attenzione per il cliente li puoi formare però io ho pensato anche a quello perderei la magia perché poi tu devi fare l'imprenditore quindi devi stare là a dire non so gommone 1 va con quei clienti gommone 2 va con i clienti gommone 3 con i clienti quindi tu stai alla regia e io voglio stare in mare cioè non è frega ci sta ci sta io non voglio stare davanti a un computer o davanti a un telefono a prendere prenotazioni io voglio ovviamente fa parte del lavoro prendere prenotazioni ma io voglio andare in mare cioè io voglio divertirmi ci sta ci sta poi magari secondo me è arrivabile cioè è fattibile è scalabile a quel punto nel senso che non ti devi puoi comunque rimanere in mare ecco però credo sia subordinata decisamente alla domanda e alla fattibilità della sostenibilità dei costi però è sicuramente una bella è una bella iniziativa che sicuramente fa riscoprire il territorio e fa conoscere sicuramente un lato della Sardegna e dell'Italia che altrimenti non sarebbe assolutamente visibile non perché non ci siano magari i charter ma perché come stai dicendo tu c'è ci sei tu ecco che sei prima di tutto un amante del mare sono io che mi diverto perché secondo me è anche quello perché avere in gommone io dico sempre in gommone io devo divertirmi più dei miei clienti se sto bene io stanno bene loro se io sto male mi annoio oppure non cioè non la giornata non passa più poi magari loro stanno bene magari si divertono però a me piace proprio essere goderta lo ci sta ma è questo il segreto sicuramente della qualità del servizio offerto allora mare sole occorre la Sardegna isola la pesca dove la posizioniamo in in sto casino purtroppo al primo posto ossessionale io la vivo in una maniera un po' ossessionante nel senso buono è perché non lo so non l'ho mai capito purtroppo penso di non probabilmente non lo capirò mai per dirti una cosa i miei genitori vanno al mare sicuramente ovviamente come tutti i caglialitani ma nessuno della mia famiglia ha questa passione per la pesca mi ama da bambino disperato mi dice ma io non lo so tu da chi hai preso ma come fai quando io andavo a pescare le prime preoccupazioni che tornavo tardissimo oppure mi pestavo da mi accompagnare dall'altra porta della Sardegna per andare a pescare erano disperati ovviamente bravi genitori mi hanno sempre assecondato mi hanno sempre lasciato libero di fare quello che voglio però diciamo che è una cosa molto impegnativa la pesca subacquea soprattutto per chi vive con me ma adesso penso di non essere l'unico esempio di tutte le persone che hai intervistato penso che tutti vivano questa situazione è complicato io l'altro giorno ho parlato con quello che sarà se tutto va bene stasera un altro ospite la procedura che hai appena conosciuto anche tu è quella c'è qualcosa di cui preferisci non parlare ci sono cose particolari che non vuoi tirare fuori è legittimo di che una chiacchierata avere ci può stare anche un po' di riservatezza è uno dei mi verrebbe da dire problemi ma non è un problema ma spesso è il rapporto che si è un po' logorato con la famiglia con i compagni o con le compagnie rispetto alla pesca in appenea è uno sport che prende tempo e che toglie tempo e che toglie tempo tu ora che sei diventato papà come vedi questo tempo sottratto al alla famiglia è tosta molto tosta ti devi cercare di organizzare bene purtroppo quello che che manca ovviamente adesso ho un bambino che ha sei mesi di vita quindi è proprio super piccolo ha bisogno di tantissime attenzioni e anche di molto supporto in casa cioè non posso mollare mia moglie sparire una settimana come facevo prima dopo una settimana sparire adesso no non lo posso più fare per ora mi auguro magari crescendo però sì questa è una fase è una parte un po' delicata che un po' un po' la soffri ovviamente però fa parte anche della vita e sono sono delle gioie altrettanto grandi quindi sì 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 concordo ovviamente in Pasqua Subacqua ti devi organizzare perché è uno sport totalizzante non è come andare a fare una partita di tennis o di calcio andare a fare una corsa che dura due ore un'ora mezz'ora per andare un'ora di attività e mezz'ora per tornare due ore ecco tutto in Pasqua Subacqua sono minimo quattro ore in mare minimo per forza più viaggio togliersi da muta mettersi da muta doce quindi ti partono almeno affettino colazione post almeno sei ore almeno e più dopo quelle sei ore sei un cadavere c'è una voglia di vivere quindi dovevi fare tipo l'altro giorno ho fatto un tour da forze incredibile sono andato a pescare da Giacomo che sta a Sassari o sta a Cagliari e a Sassari e a Cagliari sono due ore di auto sono andato alle cinque e mezza del mattino sono tornato alle nove e mezzo di sera è un cadavere però tipo con mia moglie mi conosce gli ho detto clai io scusami ho bisogno di andare un giorno mi devo prendere un giorno intero senza avere la preoccupazione così siamo organizzati con asilo nonni eccetera e sei riuscito a fare però non è più la libertà di dire domani c'è una scaduta vado a pescare domani c'è una scaduta vado a pescare quindi la gente dice hanno devo portare il bambino alle quattro dal pediatra poi devo andare a fare ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta io tengo sempre a sottolineare che è per quasi quasi per convenzione sociale si discute sempre della famiglia e dei figli come un come una frizione cioè è così però è così se la vuoi vivere così credo beh sì devi avere sicuramente non ti puoi annullare per un figlio cioè devi comunque avere i tuoi spazi la tua vita perché sennò veramente cioè poi diventa insostenibile esatto sì inevitabilmente ne piagge anche le conseguenze inevitabilmente secondo me anche il la famiglia perché comunque abbiamo bisogno dei nostri spazi ecco ma anche la qualità del tempo che passi con tuo figlio o tua moglie è meglio magari fare due ore col bambino dove tu sei hai proprio voglia di stare col bambino vuoi giocare così come tua moglie due ore in cui vuoi stare con lei ti fa piacere stare con lei ascoltarla eccetera quindi è meglio due ore fatte bene che magari 24 ore in cui sei incazzato perché volevi fare il tuo figlio magari se con il cellulare non le voce parola il bambino sei là che ti fa gire le parole perché si lamenta proprio sì 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 genitori vi siamo vicini sempre bisogna essere forti e se normalmente fare le cose richiede un impegno notevole farlo in un contesto famiglia ne richiede per dieci volte ma è fattibile è solo una questione di impegno e di organizzazione ecco senza dubbio va da sé che però ci deve essere anche una moglie collaborativa alla base beh sì non sarebbe mia moglie giriamoci attorno giriamoci attorno però alla base ci deve essere una moglie collaborativa e che capisca i nostri bisogni quindi è importante la scelta a monte mi verrebbe io lo dico sempre quando racconto quando ci chiedono la storia la nostra storia d'amore e io quando ci siamo conosciuti veramente l'ho subito attestata prima uscita l'ho portata a pescare e poi mi porti anche lei anche lei ha il padre il mio soccero che ha sempre avuto il gommone quindi comunque diciamo che è abituata ok quindi lei ha detto io vado a pesca vado al mare ah sì ah è perfetto ci vediamo usciamo quindi sono andati a pescare a canna ovviamente pescare a canna le avevo fatto foto e video tanto una foto ce l'ha presa in casa di lei che tira sul gommone proprio dal tuo carrello fantastico voglio vedere dice che se fai le cose quindi dice lei è assolutamente a pescare mi ha scarrellato il gommone forse ho trovato quella giusta grande grande noi ridiamo e scherziamo però è veramente importante una cosa del genere cioè se voi vi trovate almeno dire sempre voi dovete nel momento in cui noi ricambiamo che c'è qualcosa che ci piace e vogliamo preservarla e vogliamo continuarla nella vita come può essere la pesca in appena quando si entra nel mondo coppia secondo me è importante dedicare una particolare attenzione all'altra persona guardando il futuro perché è chiaro che in quale cose si rompono e non è bello ma poi io ho trovato la culata cioè io il mio lavoro ormai tra isola con i corsi eccetera quindi vado in mare con i ragazzi eccetera e in estate con con le escursioni oh questo l'hai creato tu e io direi amore cazzo devo andare al lavoro purtroppo mi tocca devo andare in mare e che niente sta andando a lavorare cioè quindi io andare a lavorare cioè non l'ho capito vorrei stare a casa con te ma devo andare a lavorare purtroppo mi tocca andare in mare ma è una cosa bellissima e questo denota quanto influenza noi oggettivamente possiamo avere nella nostra vita con delle scelte e deve essere questo di deve essere chiaro ed importante perché spesso io ho visto un sacco di amici un sacco di conoscenti che si abbandonano a quella che poi diventa la loro vita invece noi possiamo avere un'influenza in quello che ci in quello che ci accade e prima ne prendiamo coscienza meglio le cose possono andare in un futuro prossimo o remoto l'esperienza di di isola che cosa ti dà più di tutto in termini sociali cioè stare a contatto con tutti questi giovani ho visto delle fotografie bellissime con un sacco di gente dei bellissimi raduni cosa ti dà personalmente come cosa è veramente bello e poi gratificante cioè diciamo che un po' deve avere la vocazione nella condivisione partiamo da questo punto di vista di solito il pescato del subacqueo è visto ed è realmente come una persona avara si può dire della serie che ha messo tanti anni della propria esperienza ore di mare benzina sprecata per conoscere e imparare determinate cose e quindi dice me ne sono imparato da solo imparate anche tu da solo certo invece per quanto mi riguarda da subito ma sia io che Giacomo è una cosa che abbiamo caratterialmente molto in comune siamo tra virgolette altruisti della serie che non stiamo la sempre a tenereci segreti anzi io sono proprio per la massima condivisione e io imparo tantissimo poi c'è sempre uno scambio di conoscenze di opinioni con tantissimi ragazzi corsisti che magari sono veramente alle prime armi però fanno una cosa che per me è tipo posizionare lo spillone da poco è una stupidaggine io ho sempre messo lo spillone il portapesci in un modo nella cintura un ragazzo che ha fatto il corso con me che è veramente alle prime armi e lui mi ha detto io il portapesci lo metto così perché secondo me è più comodo micchia è vero cioè ci avevo pensato ma anche se io non ci ho mai pensato c'è c'è vado in mare tutti i giorni no praticamente era il portapesci quello della della Homer della C4 quello di Bardi è in plastica dove si infila proprio la punta dello spillone io ce l'avevo nella cintura tra due piombi lui invece ce l'ha messo sopra un piombo quindi ha potuto la fine io non ci ho mai pensato comunque sia effettivamente molto più comodo e gli ho detto ma dimmi tu che devi avere il primo l'ultimo arrivato ma io devo pagare per questo corso esatto no però tolto questo è veramente bello e poi diciamo che tutta la parte relativa ovviamente alla alla sicurezza è molto importante ed è una cosa che non non puoi imparare da solo cioè te lo devono proprio spiegare quindi questo lo stesso è una fase un punto che per me è molto importante perché la pesca subacquea è uno degli sport con più alta mortalità al mondo è uno sport molto pericoloso e ci sono tante cose che si possono evitare che io ho fatto ho fatto tanti errori da ragazzino perché ovviamente autodidatta ho preso anche qualche spavento tant'è che poi ho iniziato a fare tutti i vari corsi ovviamente ho fatto da tanti anni fa da ragazzino ho fatto corsi di apnea di pesca ho fatto mi sono sempre circondato di persone molto più brave molto più competenti di me e quindi diciamo mi ha sempre affascinato questa cosa di trasmettere anche le conoscenze base tra virgolette sì poi mi rendo conto che chi fa un corso di pesca subacquea chi ho un corso di apnea in generale cioè un ragazzo che va a fare un corso è tendenzialmente caratterialmente affine a a noi tra virgolette a noi che abbiamo questa voglia di condivisione perché chi ha voglia di apprendere ha anche voglia di condividere secondo me è una cosa abbastanza sì 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 invece ci sono pescatori classici muffloni che magari sono anche fortissimi oppure ragazzini che sono dicono non mi frega niente di andare a fare un corso io pescare vado vado da solo pesco lo stesso nulla da dire però certo si crea poi una sorta di cerchio una community di persone con un unico interesse affini affini condivisione e apprendimento perché dovrei fare un corso di pesca in apnea lasciando stare la questione sicurezza che ha sua data allora un corso di pesca in apnea perché secondo me come tutte le cose come tutti rispondono nella vita in generale tu puoi avere un talento puoi essere anche bravissimo però hai bisogno proprio di avere un confronto con altre persone che hanno studiato ovviamente una didattica un metodo e allo stesso tempo entrare a far parte di una sorta di circolo di club quindi confrontarti anche con altri ragazzi con altre persone perché si ha proprio una necessità secondo me di avere un confronto per potersi migliorare se no tu vai a pescare sempre nel mare davanti a casa tua sempre nel nostro posto sempre con lo stesso giro sempre con lo stesso fucile perché a te va bene così nulla da dire la pesca sul bacco è bellissima perché ognuno la vive a modo proprio però sicuramente io sono pure dell'idea che condividendo e passando il tempo in mare con altra gente e conoscendo questo era solo meglio assolutamente io mi reputo una persona non un talento della pesca subacquea non un talento non parto da un background con due minuti di apnea ho un'apnea media anche se non bassa perché sono normale mettiamola così ok un naso di merda penso di merda frequento l'ottorino da quando sono bambino stalkero il mio ottorino di fiducia Piercarlo Bacchi che è un ottorino fighissimo un pescatore subacqueo un ottorino specializzato in una pesca subacquea lo chiamo ogni tre per due infatti oggi questo giro ha detto mi sa che lo chiamo perché ho perso un po' di sangue all'anario perché sono malato quindi diciamo che non porto un bel background tutto i risultati che ho ottenuto comunque sia tutto quello che ho ottenuto sinora l'ho ottenuto perché ci ho messo sicuramente tantissima passione e costanza ma poi perché mi sono sempre affiancato con persone competenti persone più brave cioè da quando sono ragazzino ho sempre cioè la mia ambizione era sempre andare a pescare con le persone più brave ma perché sono sicuro che mi possono dare qualcosa mi possono insegnare qualcosa e così è stato sicuramente assolutamente e credo che questa sia determinante sia determinante come fattore per fare anche sopravvivere il settore non so se ti ricordi per una delle prime chiamate che ci fessimo per conoscerci discutemmo di come poter far diventare la peschina apnea qualcosa di più conosciuto più potenzialmente accettato più mainstream edissimo e sicuramente credo che il riuscire a trasmettere knowledge per fondamentalmente divertirci e quindi catturare un pesce sia quel tassello importante per tenere l'appassionato appassionato perché in effetti come discutemmo in più chiacchierate quando non prendi il pesce e rirrompi il cazzo cioè spegni un sacco di soldi di attrezzatura soprattutto all'inizio e già soprattutto se sei il ragazzo magari ai genitori che non se lo possono permettere fanno sacrifici poi vedi che non riesci a prendere pesce insomma è un casino e si perde non si continua quindi sicuramente la formazione è imparare a pescare aumentando le chance quindi di cattura può salvare la categoria cosa è stato complicato dal punto di vista burocratico lanciare questa associazione sportiva con Isola allora in Italia è tutto complicato dal punto di vista burocratico diciamo il limite più grande è la burocrazia in tutto ok gestire un'associazione sportiva direttantistica è molto più difficile che gestire una partita IVA perché una partita IVA vera e propria paghi le tasse è una pressione fiscale alta lo sai paghi le tasse ti fai i tuoi calcoli prima sai qualche obiettivo devi raggiungere per guadagnare e non fallire fondamentalmente mandi le fatture al commercialista il commercialista ti fa l'F24 paghi e nessuno ti rompe le scattele l'associazione sportiva è molto diversa perché ovviamente siamo senza scopo di lucro facendo parte del terzo settore hai ovviamente degli sgravi fiscali enormi però tutto ciò che entra nelle casse di un'associazione sportiva come Isola non sono soldi di Federico Rice di Giacomo Cubeddu nonostante il lavoro abbiamo fatto noi cioè noi siamo istruttori noi abbiamo chiamato su ne facciamo tutto quanto però diciamo che essendo un'associazione ripeto senza scopo di lucro fa parte dell'associazionismo quindi questi soldi devono essere sempre rinvestiti in affinità subacque ovviamente delle sportive e quindi diciamo che è abbastanza complicato per quanto mi riguarda secondo me vivere da un'associazione sportiva è molto complicato burocraticamente sicuramente ma anche dal punto di vista è proprio difficile cioè devi ci sono tantissimi cavilli ok che è una sorta di paradiso fiscale dove non c'è pressione fiscale però se è così è perché effettivamente tu questi soldi non li puoi toccare adesso c'è c'è stata la riforma dello sport che è appena passata tra virgolette dove stanno cercando di regolarizzare chi lavora in questo settore tu pensa a quanti istruttori di tennis di calcio di pallavolo ma non solo di pesca subacqua che è una cosa c'è una minuscola nicchia che chi fa l'istruttore di pesca subacqua o di apnea tendenzialmente lo fa come secondo lavoro sono pochissimi quelli che lo fanno come lavoro principale e li invidio tanto perché comunque si impegnano tanto ed è è difficile anche arrivare probabilmente anche a fine mese perché non è un lavoro più rinorativo e quindi niente è un po' è complicato ok 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 è complicato e quando quando voi avete cominciato a a fare questo quando avete iniziato questo progetto come avete pensato di acquisire iscritti al vostro progetto cioè quali sono state le strategie cosa avete pensato ok come facciamo iscritti dobbiamo vincere gare dobbiamo essere presenti in realtà in realtà non lo so ci siamo veramente nella questa prima fase ci siamo veramente buttati a capofitto tra me e Giacomo e devo dire che abbiamo ottenuto tantissimi risultati positivi cioè sta andando davvero bene abbiamo tanto riscontro complice il fatto che sia io che Giacomo siamo sicuramente giovani siamo gli istruttori più giovani in Sardegna proprio come realtà la nostra realtà più giovane che ci sia in Sardegna non tanto più giovane come anno di fondazione ma proprio come istruttori sia io che Giacomo siamo under 35 quindi abbiamo anche non lo so probabilmente delle skill in più di comunicazione date dai social da alcune trovate che facciamo ma basta dire anche una copertina per dire una locandina la locandina noi mettiamo la bella foto la scrittina ma perché ci piace perché siamo nati in questa generazione fatta così quindi magari riusciamo a tirare più persone sotto questo punto di vista oltre il fatto che traspare su questo non sono sicuro la nostra buona fede cioè della serie che noi ma lo diciamo chiaramente tutti i corsi cioè noi non siamo là per fare non è il nostro lavoro cioè quando ci presentiamo come fotologi io dico il mio lavoro è questo Giacomo dice il mio lavoro è quello lo facciamo perché a noi cioè ci piace la nostra vita sì 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 assolutamente cioè trasmettiamo davvero credo non è che ti scrivi automaticamente ti vuoi scrivere io presidente quindi tu mi dici guarda fede vorrei iscrivermi alla vostra associazione ok e ovviamente perché ti vuoi scrivere la nostra associazione cosa ti spinge a scrivere la nostra associazione noi ovviamente facciamo anche agonismo quindi le gare di pesca subacquea quindi tanti iscritti soprattutto i nuovi si sono iscritti perché fanno le gare di pesca e volevano farle col nostro circolo perché siamo un circolo giovane attivo eccetera magari erano in circoli dove erano spenti cioè una serie autonomi loro si iscrivevano chiedevano al presidente mi iscrivi a quella gara si iscrivevano ciao nessuno richiedeva come è andata cosa hai fatto noi comunque il fatto soprattutto delle gare per quanto mi riguarda è un argomento che mi piace tanto mi appassiona da sempre quindi sono il primo che magari sono là chiedo facciamo cerco di dare consigli ma non tanto consigli che gli do i punti consigli della serie tu cosa vorresti fare perché vorresti andare là ma è ancora più uno scambio di idee ci sta quasi seguirli nel loro percorso praticamente anche qui non è tanto seguire là perché diciamo che noi tendenzialmente la maggior parte dei nostri iscritti sono ragazzi che hanno fatto il corso con noi il brevetto con noi ok Giacomo in quattro anni abbiamo già fatto otto corsi quindi quattro io quattro lui quattro a Cagliari quattro a Sassari più diversi stage in Sardegna quindi chi si iscrive con noi perché sono quasi tutti i ragazzi giovani comunque si ha trovato le prime armi e di recente saranno una decina forse di ragazzi che non hanno fatto il corso con noi ma si sono iscritti per farle gare oppure perché comunque amici compagni di pesca ci conosciamo tutti quindi il movimento un po' sta crescendo mi fa super piacere mi piace che lo chiami movimento perché lo chiami movimento? movimento perché deve essere un movimento perché siamo cioè siamo tutti tra virgolette sulla stessa barca abbiamo tutti la stessa passione cioè non mi interessa che tu sia il più bravo o l'ultimo arrivato cioè siamo lì perché comunque se ci fa piacere stare insieme creare cioè stare parlare anche delle stesse cose cioè ti fa scherzo bacca fondamentalmente quindi tu puoi è questo l'obiettivo di Isola? assolutamente cioè da me per dire io ho avuto corsisti dentisti professionisti che magari hanno anche un ruolo importante nella tra virgolette nella società come il ragazzino che si sta diplomando che è proprio un ragazzetto e alla fine sono là veramente tutti senza con la muta quindi cioè tu sei nudo cioè tu puoi essere miliardario puoi essere il dentista puoi essere l'imprenditore come puoi essere un operaio che poi là sei in mare cioè là si parla di mare una lingua universale di comunità di movimento Fico 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 quali sono gli obiettivi che vi state ponendo in termini sociali? Allora sicuramente il nostro evento a pesca di rifiuti è un evento cui io tengo tantissimo che ho scritto tantissimi anni fa prima proprio che nascesse Isola io con le lampi di genio che mi vengono di pronto ma perché non fare una gara una cosa così quindi scritta poi l'ho riproposta ovviamente rilavorata l'ho presentata a fondazione Sardegna quindi una fondazione sarda della regione Sardegna che me l'ha finanziata quindi è un evento totalmente gratuito aperto a tutti dove praticamente i pescatori subacqui entrano in acqua e fanno una sorta di gara a chi pesca più rifiuti dal fondo ovviamente insieme a questa gara facciamo tanta comunicazione divulgazione quindi coinvolgiamo tutto un panorama scientifico di biologi coinvolgiamo la rete regionale per la salvaguardia ambientale quindi sempre biologi della regione Sardegna poi l'anno scorso l'università quest'anno lo faremo con delle scuole di Cagliari quindi cerchiamo di portare tornando al discorso cercare di rendere la pesca subacqueo è un pochettino più popolare dando anche un esempio concreto dove il pescatore subacqueo entra in acqua e ripuisce i fondari marini quindi nel pescatore subacqueo cerchiamo di dare la consapevolezza di essere di poter agire di essere brava gente poter agire cioè poter magari tu non ci pensi ma sott'acqua siamo gli unici che abbiamo la maschera abbiamo le competenze fisiche apneistiche andiamo in mare tutto l'anno per poter anche salvaguardare comunque sia tenere d'occhio la situazione ambientale sott'acqua noi diamo queste queste skill cioè diciamo diamo la consapevolezza ai pescatori subacquei di questo e molti non ce l'hanno allo stesso tempo coinvolgiamo una gran fetta di cittadini che non sono pescatori subacquei quindi da associazioni di volontariato a studenti a cittadini che passano là per caso ci si unisce ovviamente in questo clean up perché i volontari a terra puliscono la costa i subacquei puliscono il mare quindi la mettiamo sotto forma di festa evento cioè facciamo proprio un evento poi c'è una parte di divulgazione scientifica dove comunque i biologi spiegano effettivamente ciò che accade nei nostri mari quindi la salvaguardia dei mari e niente cerchiamo di creare appunto un evento ok ascolta a proposito di salvaguardia dell'ambiente nella msa community su whatsapp che gestisco dibattiamo spesso di tantissime cose di recente su instagram non so se l'hai visto avevo avevo condiviso un video rispetto all'invasione silenziosa è un progetto che ha fatto un autore del pesce scorpione del pesce scorpione esattamente e mentre se ne discuteva all'interno della della community un nostro membro Giuseppe aspetta che sto cercando il messaggio Giuseppe vinci vinci guerra ha fatto un punto ha creato diciamo un argument come si dice qua in Inghilterra rispetto al contenuto che avevo pubblicato e ci tenevo a condividerlo con te perché prima che cosa ne pensi è tirare un attimino questo punto di discussione e amplificarlo un attimino allora un attimo ragazzi 900 e passa messaggio al giorno community particolarmente attiva funzione ricerca allora in pratica per chi non avesse visto questo video in Grecia da un paio di anni a questa parte questa specie tropicale sta un po' ripolendo il fondo è abbastanza invasiva ed è di disturbo a tutte le specie del bassofondo che mi sono fatto il pensiero vincchia già che pesce nel bassofondo magari non in Sartegna non lo so da noi al sud c'è un cazzo dovessimo avere questo tipo di problema potrebbe sicuramente complicare la situazione e quindi ho detto sai che c'è voglio condividere questo video parliamone perché non sembra aver avuto un grosso successo il video su youtube e quindi ho detto voglio aiutare questi ragazzi e vediamo che cosa ne esce fuori Giuseppe Vinci Guerra dice sono buoni ed invasivi però ragazzi sostenere che il pescatore subacqueo possa anche solo minimamente limitare la sua espansione è quanto meno un po' un discorso ipocrita se potessimo intervenire con la pesca subacquea così incisivamente sugli ecosistemi avrebbero ragione tutti quelli che ci vogliono fuori dalle remanine protette che condannano la pesca in appenea di alcune specie vedi la cernia bruna quindi quello che sta dicendo Giuseppe fondamentalmente se siamo noi a dire i primi che la pesca in appenea è tra le più selettive e quelle meno impattanti io nel video faccio un invito a sterminare questi cioè se tu vedi un pesce non esitare sparegli perché potrebbe essere un problema domani Giuseppe fa questa affermazione ora io sono dell'idea innanzitutto che anche noi nel nostro piccolo possiamo avere un'influenza e sono anche dell'idea che il sottocosta è stato anche oggettivamente deturpato dal pescatore in appenea perché non è che siamo tutti dei bravi pescatori in appenea così come ci sono i rizzaioli i bombolari io non ho mai visto una ragosta nel basso fondo ma so che c'erano per esempio così come i crostacei così come come ricci così come delle cernie quindi dire che noi non abbiamo un'influenza tale nell'ambiente sottomarino secondo me non è totalmente corretto non impattiamo come altre categorie sicuramente però è pure vero che l'utilizzo improprio di questa disciplina può avere un'influenza nel settore e secondo me è visibile anche quando noi chiaramente mettiamo la testa sott'acqua volevo conoscere il tuo parere in merito intanto che cosa ne pensi di esattamente questo argomento cioè l'influenza del pescatore in apnea nel settore sottomarino e poi chiaramente lo rapportiamo al pesce scorpione beh allora che l'influenza del pescatore subacqueo nel sottocosta sia decisiva cioè è un dato di fatto ovviamente poi non è che sono del parere che non è che il pescatore subacqueo ha sterminato i pesci nel sottocosta semplicemente i pesci non sono stupidi proprio l'evoluzione della specie cioè se da 20 anni 30 anni il pescatore subacqueo nei primi 10 metri è molto presente ovviamente il pesce migra in profondità differenti questo qua accade molto tangibile nel periodo estivo rispetto al periodo invernale nel periodo invernale adesso riesce a fare una bella pescata in tana anche in 5 metri d'acqua riesce a trovare i salaghi anche in 5 metri d'acqua ad agosto no no perché semplicemente il pesce ripeto con un'evoluzione della specie poi dietro c'è tutta una questione di ovviamente metabolismo di riproduzione quindi temperature dell'acqua probabilmente però tendenzialmente il pesce si accorge di quando c'è tanta gente che va sotto costa piuttosto che periodo di produzione di meno ovviamente il pescatore subacqueo ha influito sotto questo punto di vista perché ripeto il pesce non è stupido quindi migra in profondità maggiore o comunque sia in altre zone dove non c'è di tanta presenza antropica e il pescatore subacqueo ha avuto secondo me una grossa influenza su determinate specie quindi magari sulla la cernia ovviamente perché è uno dei pesci che tendenzialmente pesca solo il pescatore subacqueo magari le corvine però questo pesce tipo cernia e corvine quanto mi riguarda non sono in sofferenza sono semplicemente non ci sono più cernioni in 5 metri d'acqua come 50 anni fa probabilmente magari anziché in 5 metri d'acqua sono ormai a 50 metri perché non è stupido il pesce ripeto certo quindi non lo so la parte del pescatore subacqueo della pressione sicuramente è veritiera dal punto di vista chiaramente relazionata mi verrebbe anche da dire da aggiungere relazionata all'uso proprio della disciplina perché poi chiaramente io partiamo ovviamente dal punto di vista sportivo partiamo dal punto di vista sportivo e non di braconaggio eccetera ok perché c'è anche quello ed è presente è quello sì sì però la prima parte la prima cosa che dobbiamo cercare di scendere è la differenza tra pescatore subacqueo sportivo che sono io che sei tu che siamo noi tra virgolette della community sì 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 è pescatore braconiere perché non è più pescatore braconiere quindi che va per lavorare per vivere che vede il mare come una fonte di ricchezza quindi tutto ciò che si muove tipo se ci sono i ricci prendi i ricci se ci sono le patelle prendo le patelle se ci sono i saraghi prendo i saraghi senza distinzione quello che c'è prende per rivendere la maggior parte delle volte illegalmente perché le licenze di pesca sono pochissime quindi la maggior parte delle persone fanno questo illegalmente quindi bisogna cercare di scendere la prima cosa che dobbiamo fare è spiegare la differenza tra il pescatore subacqueo sportivo e il resto che non è pesca subacquea non è pesca subacquea sì però io affermo questo concordo però è comunque però comunque è un pescatore subacqueo cioè è un qualcuno che mette una maschera e va sott'acqua per andare ad uccidere qualcosa vero è che sono due facce completamente diverse della medaglia però sono chiaramente differenti però mi verrebbe da dire agli occhi dell'opinione pubblica probabilmente questa differenza non si conosce perché c'è un'estrema ignoranza in merito e tu infatti ho spiegato quello sì ok tutte le anche torno al discorso di pesca di rifiuti c'è tutta una parte di divulgazione sia scientifica che anche nostro ovviamente dove spiegheremo alle persone normale cittadino studente persona che fa non so un altro sport acquatico che noi siamo questo e tutto il resto è altro quindi bisogna partire da queste piccole cose poi per quanto riguarda l'utilizzo del pescatore subacqueo per fini ambientali tutta l'ambientale là è un po' delicato l'argomento perché sicuramente il pescatore subacqueo ripeto avendo la possibilità di vedere intervenire sott'acqua in prima persona riesce anche a testimoniare del cambiamento quindi questa presenza di pesci scorpione che altrimenti le altre persone non saprebbero lo sappiamo perché grazie al pescatore subacqueo che viene acqua dice cazzo è pieno di pesci non ci sono più le cernie perché dove c'erano le cernie ci sono i pesci scorpione sta succedendo qualcosa quindi il pescatore subacqueo moderno secondo me deve anche saper collaborare con la scienza tra virgolette con i biologi con chi di dovere che fanno degli studi approfonditi sulle specie e si può cercare di trarre delle conseguenze però è un po' un discorso delicato è un discorso delicato e lo volevo affrontare per sverati punti è subordinato esattamente al pesce scorpione mi verrebbe da chiederti metti caso che noi organizziamo abbiamo questo problema poniamoci in quella situazione le nostre coste stanno cominciando a farci vedere i primi esemplari di pesci scorpione chiaramente mi verrebbe da dire è una battaglia persa perché se è un pesce scorpione non so biologicamente quante uova depone per esempio ne bastano anche due per fare che cazzo ne so mille esemplari ok non ce la facciamo ok quindi già questa è una cosa è un trend che probabilmente non riusciremo mai a cambiare però se sappiamo che è questa specie dico una minchiata è presente tra i 0 e i 15 metri noi organizziamo sicilamente degli eventi zona per zona dove l'obiettivo è quello di decimare questa specie io credo che questo possa avere un'influenza nella zona soprattutto perché sembra essere un pesce stanziale abbastanza facile da catturare da vedere e da identificare quindi dire che per rispondere questo chiaramente è il mio parere che noi non riusciamo ad avere una non è che non riusciamo ad avere non riusciamo ad essere così non riusciamo ad avere un'influenza su quello che c'è sott'acqua secondo me è un po' coraggioso perché ti garantisco che se gli diamo due torce in mano a due pescatori subacquei notturni professionisti quello che riescono a fare è veramente sconcertante quello sicuramente però per quanto riguarda questo tipo di campagne a mio avviso che lavoro con collaboro molto con i biologi marini sono un po' dentro anche in questo mondo in particolare una campagna del genere va organizzata e va studiata da chi di dovere cioè non mi posso svegliare io presidente di associazione di isola e dico facciamo un appello tutti i ragazzi isola siamo a cinquantina ci vediamo domani pura e sterminiamo il pesce scorpione ci fanno un articolo su lui e ci arrestano si deve muovere una macchina ben più ampia di quella di cui stiamo parlando prima di tutto bisogna iniziare una collaborazione con collaborazione con i biologi marini e ce ne sono tanti biologi marini appassionati anche di subacquea biologi marini che a differenza di quanto magari si può pensare la maggior parte non sono contro la pesca subacquea ma sono tutti consci e consapevoli del rapporto che è il pescatore subacqueo con il mare a me capita moltissimo di sentire di avere nuovi contatti con biologi marini che magari non sono neanche pescatori subacquei però riescono a apprezzano il nostro impegno le nostre capacità e quindi spesso ci chiedono appunto c'è un'applicazione adesso non mi ricordo bene poi magari ti do i dettagli un'applicazione che hanno inventato in Sardegna che hanno tirato su questi biologi dell'oristanese per la segnalazione di specie aliene quindi se tu il pescatore subacqueo trovi un pesce scorpione tramite questa applicazione comunque sia segnalandola a questi biologi marini segnai la presenza del pesce scorpione in quel determinato tratto di costa quindi poi loro ovviamente fanno i dovuti studi le dovute considerazioni e se c'è da fare una campagna di questo punto di vista una campagna di allarmismo mediatico per abbattere tra cui come si usa il termine che si usa abbattere la fanno amare con i cinghiali con amare i mari deve partire ovviamente da un punto di vista scientifico deve essere sicuramente giustificato deve passare sotto una burocrazia enorme certo certo no 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 assolutamente e niente se si riconosce che va fatta quella campagna per una tutela ambientale quindi perché se questo pesce crea un danno ecologico più di quanto possa arriccare la sua bellezza perché comunque è un bel pesce allora a quel punto si può intervenire con i pescatori subacquei un po' come quello che recentemente è successo con il granchio blu che è stato che è stato un casino anche dal punto di vista economico per i pescatori Giuseppe continua a scrivere e ci dice io alla sua affermazione affermai che era comunque un'affermazione discutibile lui dice non si sono agginati i barracuda ai tempi non si è risolto i pesci serra non non si è risolto il problema delle nutrie per cui pagavano 5.000 lire a coda anche ai bambini in piedura padana 25 anni fa è difficile tenere a bada anche i cinghiali parlando di cinghiali l'ecosistema troverà il suo equilibrio lo stesso come lo farà per il tanto allarmante granchio notatore blu che alla fine diminuisce non diminuisce nemmeno con la pesca industriale magari alcune specie autoctone andranno in sofferenza ma prima o poi si stabilirà un nuovo equilibrio magari con cerni a 30 metri e non meno ma sono meccanismi che a parer mio sfuggono al nostro controllo indubbiamente il lionfish è da inserire nella nostra dieta appena arriva concordo concordo pienamente con Giuseppe da questo punto di vista sicuramente non è semplice però questo film che è stato si chiama The Silent Invasion of the Mediterranean Sea lo potete trovare su YouTube è una comunicazione molto allarmante rispetto a questo problema che si è venuto a creare in Grecia e l'autore faceva constatare che in effetti c'è veramente poca roba oggi nel basso fondo sembrerebbe a causa di questo pesce e niente quindi ho detto niente già che pisci un se ne piglia già che siamo scarsi già che andare a mare è difficile se tra vent'anni io devo scendere in Sicilia non troverai più un cazzo ci dobbiamo riflessere giusto giusto ok dimmi una cosa Fede una di recente credo sia stato l'anno scorso si è passato in prima categoria da agonista di pescatori in apnea ok allora gare da prima della prima categoria che cosa è successo raccontami un po' in retroscena di questa situazione questo è un argomento molto a mio avviso interessante e molto particolare perché io ne parlo spesso appunto con i ragazzi che si avvicinano a questo sport come ti dicevo io frequento il mondo della pesca subacqua non il mondo cioè non faccio pesca subacqua il mondo della pesca subacqua quindi con diversi personaggi da sempre da quando forse ho 17 anni l'agonismo mi ha sempre entusiasmato cioè mi ha sempre affascinato perché comunque sia di base sono mi reputo un agonista in qualsiasi sport cioè se tu mi dici scommetti che io sono più bravo di te a saltare la corda ti rompo il culo devo saltare più di te la questione materiale sicuramente ma io non ho la sogna anche saltare la corda fare una vittoria facile è sempre l'unica cosa che mi è venuta in mente ma poi io cioè penso tornando al discorso che l'agonismo ti dà proprio quella con la marcia in più della serie di confronto cioè tu vai a fare una gara tuo ragazzino mezzo a 40 persone sicuramente i primi anni non prendi niente come ho fatto come cioè io faccio la gara da mi dicono comunque più di 10 anni e per i primi 5 anni io ero sempre ultimo fine classifica ovviamente ma perché la pesca subacqua è uno sport dove l'esperienza vale più della forma fisica cioè a me faceva impazzire perché io ero ragazzino 20 anni 20 anni mi ero in piscina ero una bestia fisicamente della serie che potrebbe costare anche 8 ore in acqua e poi magari vedevi il signore di 50 anni che faceva la gara con la pancia che come usciva si scendeva la sigaretta faceva la scatola e io mi pazzi mi dicevo ma com'è cioè com'è possibile che io questo quello rompo il culo in acqua e questo mi cioè mi prende tutti i pesci arriva con un carnierone e io magari con una salpa e quindi ovviamente cioè da queste cose qua tu inizi a riflettere inizi a pensare che la forma fisica non è tutto è molto importante ovviamente ma non è tutto l'esperienza quindi inizi a vedere dove vanno gli altri cosa fanno gli altri perché quel signore con la pancia con la sigaretta pesca e tu no quindi ti si apre proprio un mondo ti si apre una mente le gare io ho fatto ripeto le gare da più di dieci anni i primi anni non essendo un talento io lo ribadisco questo io non sono un talento della pesca subacquea sicuramente fisicamente ancora di meno tanta passione tanta praticità come erano le 4p non le 5p che ti ha detto persist 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 le 5p della passata la pesca la pena quello ci vuole quindi devi andare veramente tanto devi appassionarti ok molto lentamente arrivano molto lentamente capisci a me perlomeno io non so cosa mi sia successo mi si è sbloccato da un giorno all'altro ok ho vinto una gara la mia prima gara che ho vinto non so come perché l'ho vinta io quasi non ci credevo comunque ho fatto una bella gara non è che sono entrato a culo ho pescato ho fatto una bella gara l'ho vinto e io da là ho detto cazzo devo entrare aspetta aspetta hai preparato avevi i pesci segnati li hai trovati come è andata la gara l'ho vinta l'ho vinta ho preparato i pesci non non rimanevano perché ovviamente fa una strisciata di beach rock davanti alla una strisciata lunghissima una strisciata di autostrada bellissima tutta il lastre i lastroni pieno di pesci però non sono tane dove i pesci cioè il pesce entra in quella pietra ed esce dieci metri dopo quindi ok molto difficile da preparare ok ho detto provo a pescare provo cioè mi faccio il mio gilettino ovviamente nelle zone più più interessanti e provo a inventarmela quindi a pescare a a vedere un po' cosa succede il giorno c'erano molte salpe mi sono messo a pescare all'aspetto io non sono un aspettista ho preso sei salpe più due pesci quindi sono arrivato con otto pesci ho vinto la gara ma quello cioè la cosa che mi ha aperto il mondo mi ha sbloccato il meccanismo è stato proprio l'intensità della gara e la mentalità cioè io sono entrato in acqua con cioè pensando devo vincere la gara cioè io oggi vinco la gara e questo non mi era mai successo cioè per chi entrava in acqua ovviamente con l'intento di fare bene con l'intento di prendere pesci non arrivare arrivare sicuramente tra i primi cinque però non era entri in acqua per vincere entri in acqua per arrivare tra i primi cinque ed è totalmente differente è proprio una cosa ma cosa c'è stato di diverso a livello personale cioè tu ti sei soltanto soltanto reduttivo ti sei convinto che quello poteva accadere quella giornata e in acqua che cosa accadeva è stata una cosa molto molto particolare cioè ripeto è una cosa che non io là al momento mi sono sicuramente un po' gasato perché la prima volta ero riuscito a capire come impostare una gara come vincere una gara dopo anni anni e anni di tentativi in cui magari arrivavo tra i primi cinque però mai primo quindi là ho detto mi sono anche un po' autoconvinto della serie che ho capito come si qual è la mentalità giusta e come devo leggere una gara per poter che sarebbe riducendola in pochi che sarebbe devi cantinare in acqua con le fiamme il sangue negli occhi le fiamme non te lo so spiegare in acqua a mille dove tu devi in una gara devi dare tutto devi risparmiare devi nuotare più degli altri devi dare più degli altri devi allo stesso tempo essere super attento al mare a quello che succede come saper leggere quello che succede in mare quindi sembra sembra essere dal modo in cui tu lo stai descrivendo questa cosa sembra essere più un tuo output piuttosto che oggettivamente le condizioni assolutamente è una questione assolutamente mentale io posso dire di avere la fortuna perché l'ho avuta in pochi io da ragazzino con Jack tra l'altro io e Giacomo siamo stati allievi abbiamo fatto il nostro corso di pesca subacquea con Bruno De Silvestri ok Bruno De Silvestri è stato il mio istruttore di pesca subacquea è molto particolare perché Bruno non era il classico istruttore come posso essere io Giacomo che facciamo sicurezza specie cioè Bruno è un carattere un uragano una persona con un carattere incredibile dove però lui aveva specificato dovete tutti quanti di aver già fatto almeno un corso Apnea Academy di Apnea ai tempi c'era solo Apnea Academy quindi avevamo già tutte le basi quindi compensazione sicurezza eccetera il suo è stato un upgrade di pesca subacquea per pochi reti è stato proprio un favore da parte sua io mi ricordo questa frase nella serie nelle gare di pesca subacquea conta solo il primo si ricorda solamente il primo tu puoi fare la gara e arrivi secondo non mi frega un cazzo a nessuno vince cioè ne vince vince una persona quindi voi dovete entrare incazzati neri per me non era cioè non era proprio la mentalità io vado in acqua tuttora vado in acqua riesca a differenziare tra gara e pescata cioè in gara non capisci niente sei proprio un asino nella pesca quotidiana se io per lo meno sono incurioso non ti espone a dei rischi questa cosa cioè dei rischi fisici si devi avere molta coscienza devi avere molta esperienza molta esperienza e si ovviamente ti espone dei rischi però il mio istinto di sopravvivenza posso dire che per vale su questi per vale su questo io faccio un esempio quest'anno ho fatto il mio primo campionato di seconda categoria Casavellino con Giacomo ho una forma fisica perché si fa a settembre a fine settembre ovviamente io venivo da una stagione lavorativa come ti dicevo lavoro nel periodo estivo quindi da giugno a settembre io al mare lo vedo tutti i giorni ma sopra il gommone non sotto acqua ho fatto pochissimo allenamento pochissima forma fisica in un campionato di seconda categoria come di prima categoria devi pescare a tutte le quote devi essere operativo dai 0 ai 40 metri almeno ho pescato anche fondo fondo per me vuol dire 34 metri adesso per magari qualcuno sono quote ci spezzano il fiato ormai per quanto mi riguarda sono quote molto impegnative devi farlo con coscienza cioè devi farlo con consapevolezza quindi non un pesce una gara non vale la tua vita sicuramente come tutto il resto io ho potuto percepire la tua energia attraverso questa chiamata la tua grinta competitiva quindi la domanda per quanto mi riguarda è proprio interessante ma poi adesso le gare di pesca subacquea sono fighissime perlomeno in Sardegna è una festa cioè tu vai a pescare fai la tua gara e gara è gara perché gara tu devi sei in acqua sei da solo devi vincere fuori dalla gara quindi finita la gara è una festa cioè si si fa un pranzo tutti insieme è un bellissimo evento sociale sì è ora che è ora che stai facendo la transizione per la prima categoria hai un po' di forse ora il gioco cambierà un pochettino allora sì sicuramente io ho sempre frequentato questi ambienti della serie che mi è capitato di fare da barcaiolo a Leonardo Mastocristino un caro amico che ha fatto per me in prima categoria ha fatto due gare in Sardegna una a Castel Sardo e una a Sant'Antioco in cui io li ho fatto da barcaiolo quindi ero molto più giovane e mi sono trovato la ragazzetto a fare da barcaiolo per essere in prima persona in mare quindi vivere una gara io mi ricordo che la prima volta mi stavo per mettere la pianta la prima volta una partenza no la seconda volta come lo ricordavo per sempre con Volpiccelli c'era Leonardo che doveva fare una partenza insieme a Volpiccelli su un punto ma Volpiccelli che era arrivato insieme a noi e avevo il cuore a mille io stavo guidando dovevo fare un cazzo mi stavo per mettere la pianta ho detto io mi metto a pianta io piangere se riesco e invece l'anno scorso ho vissuto la stessa cosa e mentre nei primi momenti in cui si esce dal porto e si è tutti insieme ai mostri della pesca subacquea come Angela Ascione persone che io ho sempre stimato ma per Christian Corrias cioè atleti della nazionale contro anche lei dice cazzo c'è un primo momento ho detto c'è voi mi metti a piangere e poi ho detto cazzo devi usare questa tua emozione per metterla in acqua e poi in acqua ovviamente fortunatamente sono riuscito a concentrarmi a fare la mia gara e a tenere il risultato che era quello di qualificarmi spero di arrivare con una mentalità diversa anche se sarà ovviamente molto emozionato il primo campionato italiano anche là hai un puretti un demola a fianco un puretti e demola un po' stringi il culo perché ovviamente però io entri in acqua ovviamente che stringi il culo ma allo stesso tempo io lo vuoi rompere il culo vorrei pescare voglio pescare di puretti e demola tutti gli altri cioè io sono nella classe il nome sconosciuto puntando alle stelle sbagliando sbagliando finisci comunque nel cielo ma poi ripeto sono sicuro sarà un'esperienza bellissima poi fatta con Giacomo poi la faccio con Giacomo che ripeto è un fratello quindi abbiamo anche un feeling riusciamo a ridere anche nei momenti nei momenti peggiori riusciamo a tirare fuori il lato comico delle cose anche in gara per dire riusciamo bene bene sono contento questo sarà tanta roba spero di spero che andrà tutto bene prima di tutto poi i risultati non importa già un traguardo essere lì per quanto mi riguarda sì c'è stata un'evoluzione sono partito veramente il classico ragazzino appassionato di Pesca Subacqua a 18 anni con le riviste di Pesca Sub che si vedeva i campioni in copertina dire cioè adesso gareggio contro queste persone magari ci pisco io sulla copertina se mi impegno è uno stimolo giusto ragazzi ci vuole carattere nella vita e il lupo di oggi Federico Rice ce lo sta dimostrando alla grande io penso che a nome di tutti vi facciamo gli auguri per la prossima stagione grazie di essere stato con noi Fede è stato veramente un piacere una buona giornata grazie a tutti